Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo gotico ispirato alla vicenda reale di William Jackson Crawford e della medium Kathleen Golliger, che con una svolta degna del miglior prestigiatore prende infine le sembianze di una riflessione sulla repressione, la superstizione e la violenza psicologica in un'era in cui le meraviglie del progresso scientifico non lasciavano immaginare restrizioni al campo del possibile. La trama del libro La meccanica degli spiriti dello scrittore A.J. West pubblicato dalla casa editrice Neripuzza è la seguente, Belfast 1914. Finita l'era vittoriana, Inghilterra e Irlanda sono scosse dai cambiamenti, l'inaffondabile Titanic è affondato ormai da due anni e la morte che ha portato con sé ha alimentato la passione, diffusa specialmente nella classe media per occultismo e spiritismo. Uomo di scienza, matribolato da infiniti problemi economici, William Jackson Crawford fa parte proprio di quella stessa classe in ascesa. Ingegnere, professore al Municipal Technical Institute di Belfast, è certo che non appena terminerà di scrivere il suo nuovo libro, il successo giungerà e con quello la fine dei problemi. A interrompere la sua tranquilla vita familiare, tuttavia, giunge la tragedia. La morte dell'unico figlio maschio spinge prima la moglie e poi William stesso nell'espiria del circolo di Kathleen Golliger, giovane medium dagli straordinari poteri che impazza in città. Da uomo di scienza qual è? William non può mettere da parte lo scetticismo e la razionalità che accompagnano da sempre la sua esistenza, eppure non può neanche negare ciò che vede e sente. Durante le scienze, voci dall'oltretomba raccontano segreti mai svelati, riportando a galla traumi di un passato forse non così ben sepolto. Ben presto, dunque, la sua unica missione diventa provare la scientificità del soprannaturale. William Jackson Crawford diventerà l'ingegnere degli spiriti e il suo nome sarà ricordato per sempre. Quello che William non sa, però, è che sta per entrare in un gioco dove ingannati e ingannatori si scambiano continuamente di ruolo, fino a giungere a quella che potrebbe essere la fine, o forse solo un ultimo esperimento. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la riferenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale. Un caro saluto!